questo è un contatore Geiger qui c'è la sonda dentro questa scatola c'è il tubo Geiger e quello che stiamo ascoltando adesso è il fondo naturale che c'è in questa camera quindi qualche evento prodotto dalle radiazioni presenti nell'ambiente dai decadimenti del radon di tutti gli elementi che costituiscono le pareti della casa più ovviamente i raggi cosmici che attraversano l'apparecchio e qui ho la mia betalight fialetta con il trizio radioluminescente e adesso la vado andrò a mettere sopra sopra la sonda del contatore per farvi vedere che c'è una leggera emissione emissione però non di particelle beta come si potrebbe immaginare perché le particelle beta in realtà vengono completamente schermate da questa dall'involucro che contiene il trizio ma piuttosto c'è il contatore misurerà una leggera emissione di raggi x che sono prodotti dal frenamento delle particelle beta da parte degli atomi che costituiscono lo scintillatore ed è del vetro della fiala solo appoggio sopra questa emissione ovviamente è trascurabile non fa male non testa nessun problema di tipo radiologico ecco la e sopra la sonda e come potete vedere i conteggi sono aumentati appunto conteggi prodotti da la leggera radiazione x che viene emessa da questa fiala di trizio assolutamente innocua e lo ripeto no qua però misurabile no qua però misurabile no qua ma non no qua ma our no qua ma ma la leggera radiazione x che viene in realtà no qua ma la leggera di trizio ma la leggera di trizio ma il beta non hanno proprio modo di passare attraverso attraverso il vetro perché quelle messe d'altrizio sono veramente a bassa energia sono particelle beta energia talmente bassa che non riuscirebbero ad attraversare uno spessore di vetro di questo tipo in nessun caso invece i raggi x prodotti dal brusco frenamento appunto di queste particelle beta questi riescono a passare attraverso e quindi possono ionizzare il gas dentro il tubo kiker e che quindi mi legge qualche evento e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.